La Controriforma Nella seconda metà del Cinquecento, la Chiesa Cattolica, pressata dalla riforma protestante, avviò una controoffensiva accompagnata da una profonda riforma del Cattolicesimo. La prima politica fu detta la Controriforma, cioè la lotta contro le idee protestanti, ma anche contro quei cattolici, seguace di Erasmo da Rotterdam o spirituali, che erano sospettati di essere troppo condiscendenti verso i protestanti. La seconda politica fu detta Riforma Cattolica e mutò profondamente il volto e la sostanza della Chiesa almeno fino alla metà del Novecento. La reazione della Chiesa Cattolica alla riforma protestante, iniziata nel 1517, era stata piuttosto lenta e in generale la Chiesa non capì subito la gravità degli eventi. A Roma si preferì affrontare la questione delle guerre fra Carlo V e la Francia, piuttosto che la nuova eresia, sorta in una zona secondaria del continente. Inoltre, all'interno della Chiesa, esistevano già delle correnti che si ispiravano ad Erasmo da Rotterdam, che desideravano riformare la cristianità, adeguandola alle nuove idee maturate nel corso del Quattrocento con l'umanesimo. Contro queste correnti riformatrici si mostrano da un lato gli stessi luterani, che non accettavano l'ottimismo umanistico e concepivano un'idea assai cupa dell'umanità, vista in preda alle conseguenze del peccato originale. Contro i riformatori cattolici si mostrano anche i cattolici conservatori, che non volevano modificare nulla o per tornaconto personale o perché ostile ai cambiamenti e alle teorie umanistiche. Attorno ai papi di questo periodo si è svolse una vera e propria battaglia politica per convincerli a convocare un concilio, con il compito di contrastare la riforma protestante, rinnovando la chiesa. Solo nel 1542 si aprirono i lavori conciliari a Trento, che terminarono, dopo molte pause, nel 1563. Con il concilio fu avviata da un lato la riforma del cattolicesimo, dall'altro la controriforma, cioè la lotta contro i protestanti. Fra i padri conciliari sosseo tre partiti. Gli spirituali, che cercavano un accordo con i luterani, ma volevano anche riformare la chiesa, aprendola alle nuove richieste e alle nuove idee. Il loro capo, Reginald Polo. Gli intransigenti, che si opponevano ad ogni concessione, ma erano disposti a rendere più seria e meno corrotta la chiesa. Il loro capo era il Cardinal Carafa. E infine i curiali. Questi volevano mantenere intatti i loro privilegi. Alla fine vinsero gli intransigenti, spesso alleati ai curiali. I primi, guidati dal Cardinal Carafa, che divenne Papa con il nome di Paolo IV, cominciarono ad arrestare gli spirituali, che dovessero abbandonare lo scontro. I risultati del concilio furono pertanto al contrario di quello che i suoi promotori avevano auspicato. Le tesi luterane furono completamente rifiutate. I cattolici ribadirono l'importanza dei sacramenti e della versione in latino della Bibbia, la Vulgata. Infine stabilirono la possibilità di ottenere la salvezza tramite la fede, ma anche tramite le opere. Il concilio svolse anche un'importante opera di moralizzazione della Chiesa, che le permise di recuperare il terreno nello scontro con i protestanti. In particolare stabilì che il ruolo fondamentale del clero era la cura delle anime dei fedeli. Si stabilì pertanto per i vescovi e i sacerdoti l'obbligo di risiedere nelle proprie diocesi e parrocchie, cosa che prima spesso non avveniva. Fu stabilito, inoltre, il divieto di cumulare più benefici ecclesiastici, ad esempio più vescovati, e fu imposto più severamente l'obbligo del celibato. Il concilio, infine, operò per aumentare il livello culturale del clero, istituendo in ogni diocesi, cioè in ogni vescovato, un seminario, ovvero una scuola che doveva preparare i preti. Per i fedeli, invece, fu istituito il catechismo. L'inquisizione venne riformata e posta agli ordini della congregazione del Santo Uffizio. Questa congregazione diresse la lotta contro gli eretici, ma poi l'ha estese a tutte le forme di dissidenza, sia a livello popolare, processando streghe e stregoni, sia contro i sostenitori delle nuove teorie scientifiche, in particolare i seguaci di Copernico e poi di Galileo Galilei. Un'altra importante istituzione contro riformista fu la congregazione dell'Indice, che pubblicava gli elenchi dei libri vietati ai cattolici e quindi operava una vera e propria censura. Non sarebbe stato possibile operare tutte queste innovazioni senza avere un personale adeguato. In questo periodo, l'aumentata devozione portò alla costituzione di nuovi ordini religiosi, che fecero dell'educazione e della lotta all'eresia il proprio compito principale. Essi furono i cappuccini, che erano gli ultimi seguaci di San Francesco, ma anche i barnabiti, i teatini, gli scolopi e le orsoline. Il più potente ordine religioso organizzato come un corpo militare e caratterizzato dall'estrema disciplina interna fu quello dei Gesuiti, fondati da Ignazio da Loyola. Essi, in particolare, costituirono una rete di più di 400 collegi destinati ad educare la classe dirigente europea. Nei collegi fu applicata la pedagogia umanistica, sfrondata però da tutti i suoi aspetti più pericolosi, come la costituzione di un pensiero critico. I Gesuiti lavorarono duramente, estirpando l'eresia e spesso gli eretici anche, da numerosi paesi che furono riconquistati al cattolicesimo, la Polonia, l'Ungheria, parte della Germania, compresa l'Austria. Un ultimo elemento importante della controriforma fu la sua attività in ambito sociale. Tutte le festività che risalivano all'epoca pre-cristiana furono condannate, anche se non si riuscì ad eliminare il Carnevale, la più importante di esse. Furono costituite delle missioni incaricate di sradicare i culti agrari e popolari che risalivano a prima del cristianesimo. La Chiesa si esce conto della necessità di coinvolgere di più i fedeli nella pratica religiosa, ma mentre le comunità protestanti promuovevano l'alfabetizzazione dei fedeli affinché potessero studiare da soli la Bibbia, fra i cattolici si preferì continuare con la liturgia in latino. In tal modo il clero restava il mediatore fra l'uomo e Dio escludendo un contatto diretto come fra i protestanti. Il fedele però doveva essere coinvolto, pertanto la messa e le altre cerimonie religiose divennero dei grandi spettacoli solenni e teatrali. Se molte chiese protestanti avevano abolito il culto delle reliquie e dei santi e ridotto anche la presenza dell'opera d'arte nei luoghi di culto, tra i cattolici al contrario si diffuse verso la fine del Cinquecento una nuova corrente artistica il barocco che prediligeva l'esagerazione come strumento per meravigliare l'osservatore. Le chiese si ricoprirono di stucchi, dorature, colori, linee curve laddove l'arte classica rinascimentale aveva preferito l'armonia, la sobrietà e la misura. I soggetti preferiti erano quelli che comunicavano forti emozioni madonne con il cuore trafitto maddalene piangenti oppure sensuali e seducenti martiri sofferenti e morenti. Tutto questo esprimeva il bisogno di penitenza e devozione ma anche di seduzione ed eccitazione di tutta un'epoca. Anche la famiglia fu oggetto di forti attenzioni il matrimonio fu rigorosamente ristabilito e riportato sotto il controllo della chiesa. La sessualità venne sottoposta a controllo quella pre ed extra matrimoniale venne condannata e repressa. Il peccato più grave divenne quello della carne mettendo in secondo piano altri come l'orgoglio e l'avidità che nel medioevo erano stati puniti assai più duramente. Un'attenzione particolare fu rivolta alle donne. Il monachesimo femminile fu riformato in un'ottica di decisa clausura. Esso era destinato alle giovani delle classi dirigenti senza una dota adeguata al matrimonio ma furono costituite forme di clausura semicarceraria anche per le donne del popolo che rientrassero in categorie pericolose come le convertite cioè le ex prostitute le pericolanti quelle che rischiavano di diventarlo in quanto prive di una protezione familiare maschile ovviamente e le malmaritate cioè le donne insofferenti di una vita familiare spesso fatta solo di violenze. di un'ottica di un'ottica di un'ottica Grazie.